Primo pareggio stagionale per l'Arezzo Calcio Femminile, che non va oltre l'1-1 nel match di esordio in campionato dinanzi al proprio pubblico. Gli Arrettine giocano un ottimo primo tempo e passano in vantaggio con Capitano Lucarini, ma nella ripresa soffrono il Chianciano, che pareggia Conti a un quarto d'ora dalla fine con la neo-entrata Presentini. Mister Acquisti deve fare i conti con l'assenza della squalificata Antonelli ed è costretto a mandare tra i pali il difensore Zeghini, coperto in difesa da Teci, Baracchi, Lancia e Daterini, Correnzoni, Chiodi e Capitano Lucarini a centrocampo, e con in attacco il tridente, composto da Serluca, Paganini e Mattiacci. Il match inizia sotto il segno delle ospiti che al quinto minuto colpiscono una traversa con Di Fiore, che centra la parte alta della porta di Zeghini, con un bel pallonetto dalla distanza. La risposta dell'Arezzo non si fa attendere, giunge qualche minuto dopo con un colpo di tacco di Lucarini, suo assist di Paganini. Al ventesimo, al gol del vantaggio a Maranto, fuga di Paganini sulla fascia, cross al centro per Serluca, che serve Lucarini, che a sua volta al volo, trafigge Picciafuochi, siglando il momentaneo 1-0. Prima dell'intervallo, prima Mattiacci e poi Paganini sfiorano il raddoppio, mentre il Chianciano sfiora il pari con Pepe. Nella ripresa, le ospiti spingono sull'acceleratore e colpiscono il secondo legno Corricci sugli sviluppi di un corner. Al decimo, l'ingresso di Presentini crea ancora più problemi alla retroguardia Maranto, che regge fino al trentunesimo minuto, in cui proprio Presentini, da pochi passi, trafigge Zeghini, siglando la rete, che vale il definitivo 1-1. Nei minuti finali, le padrone di casa provano a riportarsi in vantaggio con Mazzini, Magnani e Aterini, ma Picciafuochi è bravo a pagare tutte le conclusioni, lasciando invariato il risultato. Pagheggio giusto e punto che porta l'Arezzo a 4-4 punti. Domenica prossima, altra gara casalinga contro la capolista Pontedera, del tecnico Renzo Ulivieri. Stiamo qui con il mister Acqui, senatore dell'Arezzo femminile. Mister, oggi, per colpa dell'assenza, hai dovuto cambiare modulo. Quanto è inciso nell'andamento della partita? Io credo che più che il modulo sia da considerare il fatto che noi siamo una squadra molto giovane, come già magari avevo detto, e un po' alle prime armi, le prime esperienze su tutte queste situazioni. Sicuramente c'è stato bisogno di cambiare modulo, ma anche diversi ruoli, però vedo che la squadra risponde bene. Oggi era un test veramente importante, perché il Cianciano è una squadra esperta ormai da anni, importante in questo campionato. Una prima partita in casa, diciamo, degna di nome, insomma. Secondo me è stata una partita molto combattuta. Sicuramente noi potremo far meglio se continuiamo con questa voglia, con questa intensità, anche agli allenamenti. Prevedo un buon futuro per noi. E quali sono gli obiettivi stagionali della squadra? All'inizio ero partito molto tranquillo, nel senso, ho detto anche in tv lì, la salvezza per noi sarebbe, però se le ragazze continuano a rispondere così, gli obiettivi, mai porsi dei limiti troppo bassi, insomma. Vediamo un po'. Siamo qui con Sir Luca, cosa ci voleva quest'oggi per cercare di portare a casa i tre punti? È stata una partita molto difficile in cui abbiamo lottato, c'è stato anche del nervosismo, però siamo riusciti a rimanere calme. Per riuscire a portare a casa il risultato dovevamo lottare un po' di più su tutti i palloni, senza mollare mai, però alla fine non è stata una bruttissima partita, abbiamo provato fino alla fine. Grazie.